...operato per portare questa idea in tutta la Campania e siamo tutti, siamo tanti Io so che tu oggi sei infortunato, no? Perché abbiamo visto leggermente Claudi Cante lo diciamo sia per parte degli auguri però sei voluto venire a Sorrento sei voluto venire a Piano perché non posso mancare non posso mancare Sia perché Piano è baricentrico rispetto a tutta la penisola sia perché a Piano abbiamo la sede più numerosa abbiamo tante attività abbiamo tante simpatiche persone tanti cari amici, amiche quindi il Presidente che manca gli auguri di Natale pur si è azzoppato Grazie Vincenzo di questa tua presenza e di questo tuo apporto Intanto Un attimo solo Il Sindaco si scusa ma i suoi impegni non hanno potuto essere derogati e quindi vi manda gli auguri di Buon Natale e vi aspetta martedì nella sala consigliare del Comune per lo scambio degli auguri Grazie a tutti quanti Gli auguri dell'amministrazione di Piano verso la cittadinanza Il Sindaco non è mai mancato Il Sindaco, esatto ci tenevo pure io a precisare Il Sindaco è la verità che si sono succeduti non hanno mai mancato alle nostre manifestazioni aperte anche alla cittadinanza perché questa è una delle manifestazioni che apriamo a tutti quanti Grazie a tutti